Amiche e amici di All4Shooters buongiorno buon anno siamo in un posto che ormai avete imparato a conoscere l'armeria Gun Store Bunker di Milano dove veniamo spesso a fare i nostri video e qui accanto a me c'è Massimo Di Martino che tra poco ci parlerà di queste due pistole che sono considerate un po' il santo graal delle delle pistole moderne qui ne abbiamo addirittura due io non ho mai visto in vita mia due brand 10 insieme e adesso Massimo ci parlerà di quest'arma interessante che ha una storia molto particolare e lascio la parola a Massimo che la descriverà sicuramente meglio di me ciao ciao a tutti come anticipato da Giorgio Brancaglion siamo l'armeria Gun Store Bunker di Milano e oggi vi faccio vedere come anticipato due armi molto molto particolari uguali ma la rarità non sta solo nell'oggetto ma anche proprio nel fatto di averne di averne due parliamo della brand 10 questa è la versione standard perché esiste anche una versione compact che sinceramente io dal vivo non ho mai visto è un'arma prodotta dalla Dornhouse Dickson ad Attington Beach in California nel 1983 prodotta veramente per un numero limitatissimo di anni perché parliamo dall'83 all'86 con un totale di pezzi prodotti intorno ai 1500 compresi che comprendono sia la versione standard che la versione compact considerando che poi diciamo il mercato americano è sempre stato molto molto attivo internamente pochissimi pezzi sono stati destinati all'esportazione quindi veramente pochi pezzi sono arrivati in Italia e in Europa si stima all'ordine di un centinaio di pezzi circa in Italia in quegli anni l'importatore era è stato l'armaiolo del centro qui di Milano il bravissimo Gabriele Barosi che adesso è andato in pensione si stima che in Italia non siano arrivati più di 20 pezzi in tutta onestà noi è vero è la prima volta che ne abbiamo due contemporaneamente ne abbiamo avuto una terza ne abbiamo viste altre ne abbiamo viste in totale altre due qui in Italia tenendo presente che queste queste due in particolar modo una una arriva dalla Germania una arriva arriva dall'Italia quindi siamo andati un po' a cercarcele Dornaus e Dickson ha prodotto quest'arma sul progetto sul progetto di Jeff Cooper che è praticamente un'istituzione nel settore delle armi i più giovani magari non sanno non conoscono quest'arma che però è diventata famosa grazie anche a un telefilm che è Miami Vice che è un telefilm degli anni 80 fino agli anni 90 dove Sonny Crockett alias Don Johnson nella prima serie aveva quest'arma oltre a una bellissima Ferrari testa rossa linee design pur essendo un'arma degli anni 80 sono ancora attualissimi un'estetica veramente accattivante sul fusto abbiamo il simbolo dell'aquila il gun sight che era il campo di tiro di Jeff Cooper l'arma a due sicure la classica laterale che va a bloccare il grilletto e una invece laterale a pulsante che praticamente disinserisce il percussore anche quando il cane va in battuta mira regolabile classica americana con tutte le scritte di sicurezza che a noi possono anche non piacere ma su quest'arma secondo me stanno veramente molto bene abbiamo veramente una bocca veramente interessante sembrano diciamo ricordo molto il calibro 12 per andare ad aprire le porte ricordiamo che quest'arma era stata studiata principalmente per le forze di polizia come dicevo riprende una CZ 75 studiata ovviamente per il potente calibro 10 mm auto oggi sono armi che oltre alla realtà sono sicuramente sarebbe quasi un peccato utilizzarle ma all'epoca quando è nato questo progetto che sostanzialmente si basava sulla presentazione un muscolosimento della CZ 75 per rendere quest'arma per sorreggere il calibro 10 auto che era un calibro molto potente Jeff Cooper aveva ideato quest'arma sostanzialmente per darlo alla polizia allo enforcement ma poi il calibro estremamente potente non ha trovato tutta questa presa sui vari reparti tra i tiratori il 10 auto è piaciuto molto anche se non calibro di nicchia qual è il difetto di quest'arma che essendo dovendo gestire veramente una potenza di carica del calibro del 10 auto a lungo andare la leva gold open ogni tanto si poteva rompere quindi si è fatto un po' la nomea di arma fragile e al tempo stesso ha segnato questo difetto ha segnato anche con questa nomea la fine di questo di questo progetto queste due armi sono perfette una già un padrone quindi è pronta è pronta a entrare in una nuova collezione ce n'è una disponibile se interessati vi invitiamo a contattarci le condizioni sono praticamente pari al nuovo e trovate tutte le indicazioni sulla storia che vi ho appena raccontato e tutte le fotografie in merito sul nostro sito www.gunstorebunker.ito.com ringrazio Giorgio Brancaglione e gli amici di All 4 Shooter vi aspetto in armeria ciao a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti